Cambiano i luoghi, Cambiano i temi, ma la sostanza resta quella. Parliamone il programma in collaborazione con la FNP CISL del Friuli Occidentale, qui rappresentata dall'amico Loris Pasut. Vi hai ritrovato Loris, grazie ovviamente per essere in nostra compagnia. Grazie a te Alberto, grazie a voi telespettatori e grazie naturalmente agli operatori di Telefriuli che ci permettono di entrare nelle vostre case. E la nona puntata della trasmissione Parliamone, ci troviamo nel comune di Sesto Arreghena. Oggi per la FNP CISL una giornata veramente importante perché su invito del segretario regionale generale è stato convocato il Consiglio. Significa che tutti i componenti di questo Consiglio sono qui a rappresentare i loro territori. Il territorio di Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia, l'Alto Friuli e la Bassa Friulana. Sono tutti rappresentanti di aree dove noi operiamo come organizzazione sindacale. Nelle precedenti puntate, se vi ricordate, siamo entrati negli uffici, abbiamo incontrato le persone, abbiamo incontrato gli operatori, i tecnici Inas, il patronato e il CAF CISL e anche la squadra dei nostri volontari pensionati. Qua e se non ci fossero quelli? Esattamente, senza di loro le nostre sedi sarebbero chiuse o comunque non funzionerebbero così. Bene, oggi vi vogliamo rappresentare, vi vogliamo far conoscere anche gli altri livelli dell'organizzazione. Incontreremo a breve, andremo a incontrare oggi, il segretario generale regionale Renato Pizzolito. Se mi seguite lo andiamo a incontrare. Fai tu strada. Seguitemi. Renato Pizzolito, ben trovato, come vi dicevo, vi faccio conoscere il segretario generale regionale della FNP CISL e dei pensionati del Friuli Venezia Giulia. A lui, segretario, abbiamo cominciato con la pandemia, c'è la guerra in Ucraina, la crisi energetica, la crisi ambientale e mi fermo qui. Parlando di rivalutazione delle pensioni, perché di questo vorremmo sentire dire, visto che oggi nel Consiglio generale si parlerà anche di questo, c'è una voce un po' maligna che circola. Dice, ma questa CISL nel momento in cui si tratta di recuperare il valore delle pensioni, ma perché sente la necessità di fare tutti questi suoi distinguo con gli altri sindacati? Segretario, a te la parola per dire qualche cosa che sicuramente hai in mente di dire a proposito. Sicuramente la Federazione dei pensionati della CISL è in linea e in armonia con la Federazione Nazionale dei pensionati, ma anche con la CISL nazionale che sta seguendo la trattativa insieme alla Federazione sul tema della rivalutazione delle pensioni. Ecco, la caratterizzazione della CISL è determinata dal fatto che, intanto sulle rivalutazioni delle pensioni, noi abbiamo questa posizione, rivalutazione al 100%, così come è previsto, attraverso le varie alicote di tutte le pensioni. Quindi ribadisco e sottolineo di tutte le pensioni. Da dieci anni in qua, quando c'è stato bisogno di far cassa, i soldi sono stati presi dalle tasche dei pensionati. Ecco, quindi noi abbiamo detto basta, noi non siamo il bancomat del governo di turno, ma dobbiamo avere quelle risposte che ci hanno impedito di mantenere inalterato, che ci potrebbero consentire di mantenere inalterato il potere d'acquisto delle pensioni. Noi ci caratterizziamo soprattutto invece come azione di politica sindacale perché proclamare agitazioni, sciopri e quant'altro non è nel nostro spirito, nel nostro DNA. A tavoli aperti, quindi a trattativa aperta, non si proclamano manifestazioni perché poi la trattativa è sicuramente molto, ma molto complicata. C'è un appuntamento il 7 di dicembre con il governo e quindi vedremo che cosa viene fuori da quello. Ma le nostre posizioni sono estremamente chiare ed estremamente coerenti con quello che è la spirito della nostra organizzazione. Grazie segretario, non avevo dubbi sulla precisione della tua risposta anche perché dalla tua autorevole posizione puoi dire sicuramente queste cose qua. Grazie e alla prossima. Ciao, è stato un piacere. Arrivederci, ciao. Ho raggiunto Franco Colautti, il nuovo presidente del CAF CISL del Friuli Venezia, Giulia. Ben ritrovato Franco. Un servizio importante per la CISL, un servizio a cui si rivolgono molti, molti cittadini. A lui chiediamo sempre in qualche minuto di esprimere quali sono le sue considerazioni in marito a questo servizio, in questo momento importante anche. Un servizio, come dicevo prima, utilizzato da molti cittadini. E poi si vuole fare un passaggio anche sulle nuove collaborazioni che questo importante servizio ha con la categoria dei pensionati, con i pensionati volontari. Ecco, Franco, a te la parola. Sicuramente è un servizio molto importante. Noi orgogliosamente ricordiamo, quando c'è l'occasione, che non abbiamo mai chiuso durante il periodo del Covid, rappresentando in molti casi anche un luogo di approdo, insomma di contatto con le persone che non sapevano dove rivolgersi. Una campagna fiscale che si è conclusa positivamente, siamo cresciuti ancora, nonostante noi vantiamo il primato in questa regione e orgogliosamente un primato nazionale. Noi compiliamo un 730 a ogni 10 abitanti. Secondi a noi sono solo le marche che in qualche modo rappresentano una regione abbastanza simile per dimensioni e anche per storie organizzative. Sicuramente noi siamo parte della CISL, uno dei servizi, importante, ce ne sono altri altrettanto importanti, e sicuramente questo lavoro e anche questo risultato si basa molto sul passaparola, sulla rete che noi siamo stati in grado di costruire nel tempo, le collaborazioni positive che troviamo in particolare dai nostri pensionati che rappresentano, come si direbbe, metà dell'azienda per numerosità, ma anche per diffusione, capillarità, per preparazione. Quindi un risultato che è merito sicuramente dei nostri operatori e del sistema a cui noi apparteniamo, ma è anche frutto di questa rete di collaborazioni, non dimentico l'Inas, il patronato con cui stiamo lavorando molto bene e che insieme in qualche modo costituiscono, costituiamo una somma di offerte, di opportunità per i cittadini, gli iscritti soprattutto, per i cittadini che hanno bisogno di noi. Molto bene Franco, molto chiaro, ha dato prova appunto di una realtà importante per tutti. Non finisce qui, adesso mi trasferisco in un altro angolo per incontrare un'altra persona, un'altra persona che è coordinatore di un altro servizio importantissimo per la CIL, ma seguitemi che ve lo faccio conoscere. Ho raggiunto Gianluigi Paoletto, qui vicino a me, ben ritrovato Gianluigi. Grazie. È il coordinatore regionale del patronato Inas, di quel servizio di cui poco fa vi parlavo, un servizio importantissimo che svolge un lavoro determinante per tutti i nostri associati, per le persone che si rivolgono a noi. A lui chiedo sempre di raccontare l'esperienza che sta vivendo, lui è coordinatore dal primo di gennaio di quest'anno, vero? Ecco, di parlare di questa nuova organizzazione del suo servizio e poi se vuole dire, se vuole fare un cenno anche di queste nuove tecnologie che stiamo utilizzando negli appuntamenti, in collaborazione anche con la FNPC. Ecco, a te la parola Gianluigi. E allora, chiaramente il patronato è uno dei servizi, diciamo, di punta della CISL insieme con il CAF, con cui abbiamo inaugurato anche delle sinergie proprio per offrire alla cittadinanza l'ampia gamma di servizi che l'organizzazione CISL propone. Chiaramente è diventato un servizio sempre più importante negli ultimi anni perché dalla pandemia in poi il patronato e il CAF sono diventati dei riferimenti per tutti i cittadini perché chiaramente nei confronti della pubblica amministrazione dell'Inps siamo gli unici che di fatto riescono ad aiutare le persone a risolvere i loro problemi. In questo ambito chiaramente il patronato è diffuso in tutta la regione noi abbiamo quattro sedi provinciali negli ex capoluoghi di provincia abbiamo sedici uffici zonali, abbiamo 39 operatori sparsi tra l'altro in molti recapiti anche oltre agli uffici zonali e territoriali. Noi abbiamo inaugurato con la pandemia anche una nuova modalità di organizzazione proprio per cercare di offrire il servizio nella maniera migliore possibile a tutte le persone che si rivolgono alla nostra organizzazione perché ricordiamoci come dicevo prima che la CISL come tutte le organizzazioni sindacali sono diventati dei punti di riferimento per tutta la cittadinanza. Nell'ambito di questa nuova organizzazione abbiamo una grande sinergia con la FNP proprio perché ci ha dato una grossissima mano nel fare da filtro tra noi che offriamo il servizio in maniera tecnica con le persone che hanno bisogno di questo servizio anche perché la FNP grazie alla sua capilarità e alla sua presenza in tutto il territorio regionale riesce ad intercettare le persone e riesce ad intercettare i bisogni delle persone e fa sì che ce li può poi condurre a noi chiaramente tramite un'organizzazione di appuntamenti perché noi adesso riceviamo quasi esclusivamente il suo appuntamento e riusciamo poi a soddisfare il bisogno e il diritto che hanno queste persone. Gianluigi sei stato molto chiaro, hai focalizzato bene la collaborazione anche con i pensionati e attraverso i quali diamo risposte a tutti. Non finisce qui la puntata, raggiungiamo l'ultimo ospite di questa puntata, se mi seguite ve lo presento anche lui. Alberto Monticco, il segretario generale regionale della CISL del Friuli Venezia Giulia, a lui chiedo immediatamente un suo parere, un suo punto di vista su questa nuova collaborazione con i pensionati, con la categoria dei pensionati per l'utilità alla CISL grande sindacato. Prego a te Alberto. Ma più che una nuova collaborazione, è una collaborazione che ha un nuovo assetto organizzativo a cui sono contento di poter partecipare oggi e che è una garanzia non soltanto per la CISL regionale ma per tutta la società. Noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo circa 150 sedi aperte di cui buona parte grazie alla collaborazione che abbiamo con l'FNP riusciamo a coprire tutta una serie di servizi per quanto riguarda il patronato e il CAF grazie proprio ai volontari che hanno questa volontà che penso sia incommiabile anche da trasmettere ai giovani di vivere la società e di essere utili al prossimo. Quindi da questo punto di vista mi auguro che l'FNP anche in questo nuovo assetto continui a trasmettere alla CISL ma anche tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia questa volontà di vivere assieme. Grazie sintetico ma efficace e sempre con grande passione Alberto ed ora la puntata sta per concludere ma prima ci riservano i saluti con l'altro Alberto seguitemi. Questa volta non ho potuto fare il consueto giro, il tour degli uffici e conosce il personale che opera per la FNP CISL ma ho assistito con molto interesse alle interviste. Che bilancio possiamo fare di questa puntata Loris? Un bilancio sicuramente positivo, avete avuto modo di sentire proprio gli alti livelli dell'organizzazione sindacale, un'organizzazione puntuale, precisa che risponde come sempre alle necessità della gente. Alberto questa nona puntata sta per finire, noi salutiamo naturalmente i nostri telespettatori e diamo appuntamento a loro alla prossima. Alla settimana prossima e grazie ancora per l'attenzione e grazie a te Loris. Grazie a voi. Grazie a voi.